Invecchiarti no? Quanto sono? Sono 34 34 34 34 Aguri Davide, dai Riprendi, riprendi, riprendi Leandro, un solito per la stampa Guardiamo cosa ha sparato il tubo Mitico, 50 euro, 500 euro Tutti i mezzi da 500 Un milione di euro, il vecchio conio Mi pare proprio chehanno subito vedermi Due, pure la fin conheca, c'è puro profundità Punto! Di Pettino! Imponione! Miostante! Che di Matteo! Grazie a tutti